Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo post partita di Milan Sassuolo Risultato finale 1-2 per il Sassuolo Che dire, anticipo già che se qualcuno è in contrasto con quello che sto per dire comunque giustissimo Perché ognuno è libero di avere i propri pareri personali, di scriverlo qua sotto nei commenti In modo tale da creare una discussione per parlarne Comunque detto questo, così no, così assolutamente no Ora perdere questa partita col Sassuolo significa troppo Più che altro perché tu adesso vai a affrontarla a Lazio, dopodiché hai il Benevento e dopodiché hai la Juve Questa partita col Sassuolo ti permetteva, se vincevi, di stare un'altra giornata con la sigaretta in bocca e guardare gli altri cosa facevano E se per caso anche gli altri avessero fatto un risultato positivo, te comunque eri tranquillo perché rimanevi davanti Ora con questo scenario cosa si prospetta? Si prospetta una vittoria dell'Atalanta che ci scavalca Si prospetta una vittoria della Juve che riaccorcia a noi Si prospetta poi un lunedì dove tu devi giocare contro la Lazio e devi vincere per forza E tu devi vincere obbligatoriamente A parer mio questa partita qua oggi è stata persa da Mr. Pioli con i cambi Secondo me, perché fino al settantesimo, ok, fino al settantesimo io ho visto un bel Milan Un Milan voglioso di attaccare, un bel Milan che difendeva Pioli ha voluto toccare delle pedine che io non avrei toccato Nel senso che al posto di fare Rebic, Mandzukic, volevi più fisicità lì davanti per magari provare a tenere un po' di più il pallone lì Va benissimo ma non mi togli Rebic, mi vai piuttosto a togliere Leao e vai dopo a rimettere a posto gli esterni offensivi sinceramente Leao purtroppo è un giocatore che ha delle potenzialità a parer mio enormi Ma che a quanto pare nel Milan non riesce a far esplodere Nel Milan Leao non riesce, fa una partita su 45 buona e poi le altre scompare Poi troppa sufficienza la gente che è entrata sinceramente Poi vabbè, per l'amor del cielo, Brahim Diaz, Castieco sono entrati dopo che avevano subito il 2-1 Quindi non potevano far troppo neanche loro per l'amor del cielo Però tipo Krunic, cioè non lo so ragazzi, non lo so Il problema di questa partita anche cos'è stata? È che con una squadra del genere tu non puoi permetterti di non andare a chiudere una partita così Perché tu potevi farlo Perché non è stata una partita combattuta che hai fatto un tiro in porta Stava dominando il Milan fondamentalmente Il Sassuolo è sceso qualche volta Sì, si è resa pericolosa ma il pallino del gioco ce l'avevamo in mano noi Quindi vedere un risultato del genere, un 2-1 In 5 minuti è clamorosa comunque Io non è che dico colpa dei cambi perché non riesco a trovare appigli Perché comunque l'errore in difesa l'ha fatto Tomori Che non è stato appresso, appiccicato a Raspadori sul secondo gol Il primo gol comunque ragazzi non mi va neanche di commentarlo che abbiamo subito Perché veramente quello lì potete dirmi quello che volete Ma è stato un buco di... enorme Ragazzi, Tolian in area di rigore ha calciato Perché quello lì era un tiro in porta Ha calciato come neanche un bambino della scuola calcio fa Che non ha forza nel tiro E la palla è rimasta lì e Raspadori ha fatto un tap-in vincente E l'ha messa in porta Ma tutto è partito da cosa? Da un tiro di Tolian da scuola calcio Non scuola calcio dici Eh dai bravo, scuola calcio tecnico No, da bambini che non riescono a tirare il pallone con forza da qui a lì E questo qui gioca in Serie A È ovvio che un po' posso rosicare se permettete Comunque, detto questo Premessa, passiamo ai voti della partita di oggi Voti che per la maggior parte ragazzi sono sufficienti Perché, ripeto, fino al primo gol che è successo al settantasettesimo Il Milan era tutta la squadra sufficiente a parte il classico Leao E cosa c'è da dire? Non c'è nulla da dire purtroppo ragazzi Cioè, partiamo Donnarumma a sei Donnarumma ha fatto il suo I suoi due gol non poteva farci fondamentalmente nulla Quindi prestazione normale, classica del buon Gigio Uscite fatte bene Niente Calabria è rientrato bene Questo fa piacere, è rientrato bene Dopo l'infortunio ha fatto una buona partita Begli interventi Insieme anche a Dalot Dalot oggi mi è piaciuto particolarmente Sia in fase offensiva che in fase difensiva Anche lui ha fatto delle buone cose La coppia difensiva classica, solida Oggi è venuta un po' a mancare sui due gol Tomori Kier Tomori 5, Kier 6 Fino al settantesimo Entrambi hanno fatto una partita Come al solito Pulitissima Hanno mostrato una sicurezza disarmante Come al solito Begli interventi Usciti molto bene a centro campo E poi sui due gol Sono mancati Allora il primo gol Lo ripeto È stato proprio tutto inaspettato Perché quello di Toglian Si aspettasse che Fosse un tiro Che sarebbe finito tra le braccia Non ha rumma Ma ripeto Non ha neanche la forza Di un bambino della scuola calcio Nelle gambe E quindi Palla che è rimasta lì Raspadori l'ha messa in porta Secondo gol Purtroppo Tomori Si è fatto beffare Da un tocco di Di Raspadori Che l'ha spiazzato sul movimento E ha calciato in porta Comunque Kier Sufficiente Perché ripeto L'errore sul secondo gol L'ha fatto Tomori Che si è fatto Un po' a trovare impreparato Su quel movimento di Raspadori Però Kier Nel complesso lui è sufficiente Meite Che si sei Oggi centrocampo Ha fatto anche quello bene Dei buoni interventi Niente da dire ragazzi Cioè Hanno fatto il loro compito Che si Ha fatto Gli stessi interventi di Meite Belli Puliti È un centrocampo Che comunque reggeva Chiaretto Sostanzialmente Perché non è che abbiamo preso gol Da delle imbucate Cioè Sono tutte situazioni Create in area Sale Makers Sei Sale Makers Oggi Che mi è piaciuto Un po' più del solito Un po' più Brillante E un po' più Come si può dire Come ho detto Anche in un altro Post partita Anche oggi È stato Un pelo Non monotono Nel senso che Se Prima era sulla fascia sinistra E rientrava L'azione dopo Te lo ritrovavi Sulla fascia destra Che invece Al posto che rientrare E provare la finta La giocava Per fare un 1-2 E quindi anche Sale Makers Oggi a me è piaciuto Sinceramente Poi passiamo a Ciala Un Cialanoglu Che si è un minimo Ritrovato Con un gran bel gol Perché comunque Il gol di Cialanoglu È stato veramente Un gran bel gol Mattonella Era la sua Gli arriva la palla Stop Puntuale Preciso Se la sposta Quanto basta E la mette Sotto l'incrocio Questo è il Cialanoglu In fase Offensiva È il Cialanoglu Che ci ricordiamo Ovviamente Però non basta Non basta ancora Sostanzialmente Perché Ho visto qualcosina Un po' di più Oggi Però non è ancora Lo stesso Cialanoglu E mi chiedo Se mai lo rivedremo Io lo vorrei rivedere Con la Lazio E anche con la Juve Perché lì ci servirà Rebic 5 e mezzo Leao 5 e mezzo Oggi Rebic Rebic ha provato A fare un po' troppo Lezioso Con certi tocchi di petto Al posto che Magari stopparla Semplicemente Tenersela lì Ha preferito Aprire Provare degli appoggi Col petto Che non gli sono riusciti Poi appena prendeva palla Sguardo fisso Sulla palla Non si guardava mai in giro Andava dritto per dritto Oggi Rebic Non ha fatto malissimo Però Per queste Situazioni qua Non merita la sufficienza Leao Ho detto sinceramente Gli avrei dato anche un 5 No un 5 e mezzo Dai un 5 e mezzo Giusto Invece come ha detto La redazione Come ha stillato i voti La redazione Milan Inside Perché comunque Rispetto al col Genoa Ha giocato meglio Ma non ha fatto fondamentalmente Nulla Neanche in questa partita Almeno questa partita Riusciva perlomeno A tenere i palloni tra i piedi E a fare qualche passaggio Infine Arrivano i voti Della panchina Brahim Diaz Castiglieco Senza voto Fondamentalmente Non hanno fatto niente Hanno toccato una volta Il pallone Krunic e Mangiukic 5 e mezzo Sono entrati un po' Mollini entrambi Mangiukic con la sua fisicità In aria anche in difesa Doveva farsi sentire di più E Krunic L'occasione che ha avuto Nella punizione a due Magari Lui ha provato a calciarla Secca sul primo palo Però Magari un po' più intelligentemente Doveva alzare un attimino La palla Non lo so A provare sul secondo palo Anche perché Vabbè A parte che le punizioni da lì Sono sempre difficili Comunque Niente Questa è Valutazione finale di Pioli 5 Che secondo me Oggi è stato lui L'artefice Della nostra sconfitta Comunque ragazzi Sostanzialmente Una partita che Io in live Su Twitch L'avevo detto Appena iniziato Ho detto Oggi ragazzi Non me la sento per niente buona Con tutti i casini Che ci sono stati Della Super Lega Che ci siamo entrati Con tutte queste situazioni Il Milan di qua Il Milan di là E Ibra non c'è Tui Hernandez non c'è Ben Nasser non c'è Abbiamo addosso Sta roba qua Continua a ripetere La Super Lega Che era uscito lo scandalo E dentro c'eravamo anche noi Mi puzzava troppo Sta partita E infatti ragazzi Non me l'aspettavo Perché al 77 Mi aspettavo di tutto Tranne che due gol Del Sassuolo Per come stavamo Interpretando la partita Comunque niente ragazzi Io vi ricordo Che domani sul canale Uscirà anche La reaction editata Io comunque vi ringrazio Per la visione del video Mi raccomando Vi chiedo di lasciare un like O cortesemente Se il video vi fosse piaciuto Di iscrivervi al canale E vi aspetto su Twitch Il link in descrizione Per andarci a vedere La prossima partita Milan-Lazio insieme Grazie mille E ciao a tutti ragazzi